bravo salve a tutti ragazzi siamo qui in compagnia di Nat, Spotsman e Jarry Storix, canale in descrizione, vabbè oggi apriremo allora questa, questa, questo era il mio pack random scelto da lui e io le devo aprire, io apro questa qua perché testeremo lo sculo, Aspio però io nei video ho sempre scusato rare, io filmo, vabbè, dai ma sei merda, vediamo, vediamo chi si trova di per i due, eh questo qua fa paura, eccolo, scusa, quello è il tacchino, io sono il tacchino, iscrivetevi al mio canale, farai il canale del tacchino, chi la chiamano proprio il canale del tacchino, ah è raro, ah guarda la prima, no no lo fa vedere direttamente, tutto live, deve essere live, deve essere live, è una beata mia, è una beata mia, va nulla, mi dispiace, voglio questa prendo eh, attenzione, allora vediamo, dubito, si vede? si, no, 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 che merda, niente, sfata tutto, i pacchi più belli, c'è la short print, che una short print, grande drum, che merda, sembrava proprio fuoco, dico quanti dislike metteranno posto via, ma non fa niente, vai io mi racconto, niente, disiscrivetevi al canale, disiscrivetevi al canale, non mi ricordo che due, ma diate pietà per chi fa 4-1-2 non passa, e di chi fa 1-3 in Europa, sono uscito all'ultimo turno, non c'è una puttana, 4-2-1, 4-2-3, facciamo vedere quel cazzo, voglio di segnalare le parolacce, perché nel mio canale ci stanno, le parolacce, ok, possono stare nel canale, le parolacce si, dite un addio, addio, amici, addio